Ben trovati per una nuova puntata di Conto su di te, l'appuntamento di approfondimento in collaborazione con UbiBanca. Io vado a ritrovare con piacere Luca Scassellati, direttore dell'area territoriale di Arezzo. Ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Allora, chiaramente il tema di questi giorni è legato alla situazione che stiamo vivendo. UbiBanca, avevamo già detto nell'altra puntata, si è mossa per tempo e ha lanciato questo programma che si chiama Rilancio Italia. In che cosa consisti? Sì, effettivamente è così. Il consiglio d'amministrazione di UbiBanca ha ritenuto opportuno varare questo programma integrato, appunto denominato Rilancio Italia, e comprende una pluralità di interventi che hanno un valore complessivo come scarico a terra sul mercato per la nostra clientela di 10 miliardi. E quindi è un impatto particolarmente forte, è un importo particolarmente consistente, con il quale cercheremo veramente di dare una spinta in aderenza a quello che è il claim dell'iniziativa Rilancio Italia, affinché in qualche modo si possano creare le condizioni per ripartire il più velocemente possibile. Il provvedimento, l'iniziativa si articola in due parti, dalle quali poi in qualche modo si delineano ulteriori sotto iniziative. Le due parti fondamentali, i due capisaldi, sono praticamente la prima è la sospensione del pagamento delle rate, sia per quanto riguarda le famiglie e sia per quanto riguarda le imprese, e questo è finalizzato a creare quel cuscinetto di liquidità immediato, quindi proprio oggi il contesto di riferimento, affinché appunto le famiglie possono avere una maggiore elasticità per quanto riguarda la gestione del loro bilancio familiare e le imprese possono avere più elasticità di cassa per quanto riguarda la gestione del loro circolante. Il secondo pilastro è appunto in qualche modo quello fondamentale che di fatto va a sostenere proprio il rilancio del sistema, quindi di là è rilancio Italia, e si concretizza in operazioni di consolidamento che quindi in qualche modo cristallizzano l'esposizione precedente dei nostri clienti e nuovi finanziamenti, e qui effettivamente è la parte veramente più interessante, quindi nuovi finanziamenti che vanno a finanziare le esigenze di liquidità immediate, le esigenze legate a far bisogno di ricercolanti e i nuovi investimenti che l'azienda si sentiranno di sostenere in questa fase. Il tutto riguardo a un valore di 10 miliardi e quindi crediamo che fondamentalmente con questo intervento la banca possa dare veramente un contributo fattivo alla ripartenza dei territori nei quali opera. Ecco, vogliamo approfondire proprio la parte imprese, visto che abbiamo anche noi ospitato in queste settimane anche la preoccupazione ovviamente delle imprese che magari sono state ferme o che chiaramente hanno avuto una contrazione degli introiti. Per quanto riguarda le iniziative, innanzitutto sospensione del pagamento delle rate, quindi sospensione di finanziamento lo abbiamo già detto, fino al 30 settembre è un problema che non si pone, consolidamento dei debiti progressi sia di breve che di medio e lungo termine con la possibilità di avere finanza aggiuntiva e quindi un ulteriore incremento di liquidità che si aggiunge a una situazione debitoria progressa. Nuova finanze a colline sia a breve termine che a medio e lungo termine che di fatto in qualche modo contribuiscono, possono contribuire a creare un maggiore cuscinetto e una maggiore elasticità per le aziende a fine di avere quella disponibilità finalizzata al pagamento di fornitori, finalizzata al pagamento delle imposte quando in qualche modo si ripagheranno, finalizzata al pagamento degli affitti, qualsiasi tipologia di finalità legata in qualche modo all'esercizio della gestione della cassa delle aziende. Operazioni legate al sostegno della digitalizzazione, incremento linee di cassa, quindi un ulteriore polmone in termini di liquidità che si può determinare tramite la conversione di linee commerciali, quindi linee commerciali già presenti, accordate al cliente che in questo momento qui, vista la mancanza di fatturazione delle imprese, non troverebbero utilizzi, c'è la possibilità di utilizzare queste linee commerciali e di trasformarle in linee di cassa, quindi un'ulteriore possibilità per creare ancora un polmone aggiuntivo nelle disponibilità delle aziende. Per quanto riguarda il territorio di Arezzo, credo che sia in qualche modo una facilitazione particolarmente importante, molto sentita anche dal settore orafo, c'è la possibilità di avere una moratoria per quanto riguarda i prestiti d'uso, sia a breve termine che a medio e lungo termine, una moratoria sia sul metallo, quindi sul capitale, sia per interessi, fino al 30 settembre. Quindi le aziende non saranno tenute al rimborso del prestito d'uso che in qualche modo è stato attribuito, è stato allora attribuito fino al 30 settembre, non saranno nemmeno obbligate al pagamento degli interessi, addirittura dal primo gennaio di quest'anno. Quindi per tre trimestri consecutivi, fino al 31 marzo, 30 giugno e 30 aprile, non saranno in qualche modo obbligate al pagamento delle competenze. È veramente questa una possibilità particolarmente importante, si sa che la materia passante, quindi la materia sulla quale in qualche modo lavoriamo qui ad Arezzo è particolarmente costosa, quindi anche il peso degli anni finanziari potrebbe essere anche un peso particolarmente rilevante. Le aziende fino al 30 settembre non hanno questo tipo di impegno, non hanno questo tipo di obbligo. Basta richiedere presso le filiali, presso i nostri consulenti, c'è un'autocertificazione da fare, una richiesta da fare e quindi è un ulteriore elemento di facilitazione per quanto riguarda le nostre imprese e il nostro distretto orato. E dalle imprese poi si diceva prima anche per quelle famiglie che magari… Lasciami aggiungere una cosa perché secondo me è estremamente importante, sempre legata al mondo delle imprese. È ovvio che tutto l'accesso al credito passa per le forme di garanzia che il governo ci mette a disposizione con la 662 e quindi fondamentalmente cerchiamo di sfruttare e di utilizzare al meglio quelli che sono i contenuti del decreto di liquidità dell'8 aprile. Noi crediamo che un fattore determinante in questa fase per quanto riguarda la gestione delle relazioni con i clienti sia dettata dalla velocità, dalla rapidità di esecuzione. Forse è questo un fattore particolarmente importante che ci chiedono le aziende. Allora se le aziende ci danno il set informativo adeguato che non è quello precedente, è un set informativo sicuramente molto più alleggerito rispetto al passato, ma qualcosa in termini di documentazione, di informazione ci vuole sicuramente. Se in qualche modo Sace e Mediocredito Centrale aprono le piattaforme operative per consentirci appunto l'accesso a queste forme di garanzia, lato banca veramente abbiamo creato una vera e propria task force, un vero e proprio gruppo di lavoro affinché in qualche modo si riesce a smaltire questo numero particolarmente elevato, un numero particolarmente sostanzioso di richieste che stanno arrivando presso le filiali e presso i gestori e con questa task force riteniamo che possiamo veramente scaricare a terra e concretizzare il maggior numero di operazioni nel più breve tempo possibile. Abbiamo cambiato veramente il nostro modo di operare, il nostro modo di gestire alcune operazioni addirittura le stiamo facendo in maniera pressoché automatizzata, evitando altre attività di carattere amministrative che potrebbero in qualche modo appesantire i tempi. Ecco c'è veramente un gruppo di lavoro sicuramente particolarmente motivato e determinato affinché queste operazioni si possano fare nel più breve tempo possibile. È veramente da parte nostra uno sforzo particolarmente consistente, però fondamentalmente riteniamo che la velocità, la rapidità di esecuzione sia uno dei fattori vincenti e determinanti per la gestione delle relazioni con l'azienda in questa fase. Dopo parleremo proprio anche dell'aspetto organizzativo e lavorativo, si diceva prima anche delle famiglie perché anche in questo caso c'è per alcune l'esigenza di magari interrompere il pagamento delle rate del mutuo, come funziona? Allora per quanto riguarda il pagamento delle rate del mutuo siamo pressoché allineati di operativi, assolutamente operativi e quindi tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta avranno questa moratoria, questa sospensione per quanto riguarda il pagamento delle rate così come abbiamo detto già prima. Inoltre ci siamo in qualche modo attrezzati anche per effettuare un anticipo sulle casse integrazioni per i dipendenti che appunto stanno soffrendo di casa integrazione in ottemperanza a quello che fondamentalmente è l'accordo A-B-Governo e quindi anche la banca in qualche modo aderisce a questa possibilità, a questa opportunità. Cerchiamo anche di aiutare le famiglie in questo processo di digitalizzazione che effettivamente diventa un must determinante in questo periodo, in questo momento e al di là di questo vogliamo comunque dare un contributo alle famiglie anche per quanto riguarda la gestione della tesoreria, quindi non solo sospensione delle rate ma abbiamo messo a disposizione un rafforzamento del nostro prodotto di cariconto che consente di gestire al meglio le spese quelle di piccola entità, le spese che fondamentalmente ricadono nell'ambito di un budget mensile o al massimo di un budget annuale. Con questo prodotto una volta attivato presso le filiali la famiglia decide come e quando vuole caratterizzare le proprie spese, i propri impegni, soprattutto quelli di minore entità e ripeto lo può fare tranquillamente da casa 24 ore su 24, basta aderire presso le nostre filiali con questa procedura e con questo prodotto che come ripeto abbiamo denominato ricariconto che stiamo oltremodo in qualche modo rafforzando in termini di offerta commerciale in questo periodo. Oltre a questo continuiamo nella nostra attività di sostegno alla famiglia con dei prestiti prevalutati denominati digital lending che fondamentalmente vengono offerti alla clientela che viene contattata dietro ad iniziative di caring o di vicinanza che il nostro sportello fa e quindi dei clienti avranno la possibilità di avere dei prestiti che sono prevalutati da parte della nostra direzione crediti. Quindi anche da questo punto di vista sostegno, anche da questo punto di vista mettere a disposizione strumenti per quanto riguarda le difficoltà di carattere finanziario immediate. Oltre a questo c'è una parte chiaramente legata in qualche modo alla consulenza per quanto riguarda i prodotti di investimento, chiaramente c'è una parte di clientela che fondamentalmente deve invece gestire i propri risparmi e da questo punto di vista ecco la nostra facoltà, la nostra possibilità, le nostre possibilità digitali si sono assolutamente ampiate e quindi abbiamo la possibilità di fare consulenza nei confronti dei nostri clienti a distanza senza farli venire in filiale, quindi l'analisi dei portafogli, l'analisi della loro asset allocation e laddove ci fosse la possibilità di fare delle operazioni siamo pronti a farle appunto a distanza, sfruttando i nostri canali telematici, sfruttando i nostri canali digitali, sfruttando utilizzando anche gli OTP che è un ulteriore elemento aggiuntivo rispetto al passato, quindi one time password e tutto questo ci consente di chiudere delle operazioni nel rispetto della consulenza cliente, di chiudere delle operazioni a distanza senza far venire il cliente in banca e quindi operando direttamente con il rapporto banca cliente direttamente da casa in questo momento qui e anche in futuro speriamo anche in vacanza quando le condizioni di emergenza saranno finite. Questa emergenza ha portato anche a nuove condizioni di lavoro, di organizzazione senza però ovviamente abbandonare immagino, anzi la clientela forse c'è una maggiore vicinanza. Beh sì, allora l'aspetto fondamentale sulla quale abbiamo lavorato soprattutto il primo periodo era una vicinanza e una presenza non formale ma sostanziale nei confronti dei clienti, veramente abbiamo contattato un numero particolarmente di clienti estremamente elevato, in prima battuta proprio per sentire quali erano le condizioni della nostra clientela, chiaramente qual era in qualche modo lo stato delle famiglie e delle imprese. Ora lo stiamo facendo e stiamo rafforzando questa attività telefonica di contatto e di vicinanza anche con questa offerta di prodotti che in qualche modo abbiamo illustrato fino ad ora. Dal punto di vista della continuità operativa ci siamo adeguati a quelli che erano i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi abbiamo cominciato ad operare con criteri in qualche modo di sicurezza, quindi con le mascherine, con i guanti, con l'utilizzo in qualche modo di detergenti sanitari, addirittura inserendo dei plexiglass all'interno delle filiali per creare un elemento anche di distanza o comunque una barriera tra il cliente e la banca, una barriera di pura sicurezza. Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare attivando criteri di turnazione per quanto riguarda le filiali più strutturate, al momento siamo aperti soltanto la mattina e soprattutto da questo punto di vista ci siamo allineati, adattati a quelle che sono in qualche modo anche le esigenze della clientela, anche nel rispetto della nostra sicurezza ma anche della sicurezza della clientela, quindi in questo senso raccogliendo le indicazioni di vari decreti stiamo operando su appuntamento, quindi cerchiamo in qualche modo di avere una frequenza in filiale ordinata, razionalizzata e quindi non creando in qualche modo sovrapposizioni e quindi creando di dare un ordine logico alla nostra relazione con i clienti. Questi, ripeto, tutti i criteri che ci hanno visto allineare a quelli che sono i vari decreti che sono in qualche modo stati pubblicati fino ad ora. Certo, l'hai detto e condivido pienamente, è cambiato completamente il nostro modo di operare. La digitalizzazione è diventata un must, un presupposto a questo punto non rinviabile e la banca veramente sta facendo di tutto affinché in qualche modo nei rapporti con i privati e con le famiglie e con le imprese il digitale rappresenti effettivamente la modalità principe di contatto, cercando in qualche modo di velocizzare quelle che sono in qualche modo le abitudini, sia nostre che dei nostri clienti, verso questo nuovo modo di colloquiare. Abbiamo sviluppato ulteriori elementi anche sullo scambio della corrispondenza, sullo scambio documentale e questo lo possiamo fare, ripeto, con la volontà di non far venire clienti in filiale e quindi possiamo avere scambio documentale di informazioni o anche scambio di contratti firmati tramite i nostri prodotti, tramite un prodotto che consente effettivamente questa operatività denominata UbiBox, oppure tranquillamente tramite posta elettronica certificata, quindi tramite i PEC. In aggiunta chiaramente l'impatto più forte che effettivamente dal punto di vista dell'organizzazione abbiamo avuto in questa fase è chiaramente sullo smart working. La banca ha poco più di 20 mila dipendenti, credo di poter dire che è stato fatto veramente un miracolo dai nostri colleghi preposti a queste attività, perché abbiamo portato in smart working circa 13 mila persone di tutti i segmenti professionali, sia legate al mondo delle attività legate ai centri direzionali, quindi Brescia, Bergamo, altri centri direzionali e quindi in questo senso ricomprendo anche il centro direzionale di Arezzo in via Calamandrei e anche per quanto riguarda l'attività dei nostri consulenti di rete, quindi abilitando l'attività di smart working anche i titolari di filiale, i consulenti business per quanto riguarda il sostegno all'impresa e ai territori e anche i consulenti premium per quanto riguarda la gestione del risparmio e delle ricchezze della clientela. Quindi uno sforzo organizzativo particolarmente forte, ma che effettivamente credo possa essere apprezzato dalla clientela all'interno della cornice che dicevo precedentemente del rilancio Italia, che speriamo effettivamente possa determinare un vero e proprio rilancio del nostro territorio e dell'Italia in generale. E' quello che ci auguriamo e ringrazio molto Luca Scassellati, direttore territoriale Aria Rezzo di Ubi Banca, grazie e alla prossima. Grazie davvero a tutti quanti e buon in bocca a Luca a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.